La crisi ucraina è la peggiore che possa accadere in questo momento, innanzitutto per il rischio drammatico di perdite di vite umane e per tutti gli effetti economici, per tutti gli effetti potenziali di flussi di rifugiati, per l'instabilità che questo genererebbe. Quindi bisogna fare tutto il possibile per evitarla, c'è bisogno che il nostro Paese sia unito, fermamente unito dietro al governo e il governo con il sistema di alleanze che abbiamo può dire la sua e dice la sua per convincere la Russia a non fare quei passi che superino quella linea rossa che sarebbe un disastro e che porterebbe poi a delle drammatiche conseguenze. Quindi noi sosteniamo fortemente il governo in questo momento e chiediamo veramente che tutte le forze politiche lo sostengano perché per evitare la guerra c'è bisogno oggi di fermezza da parte nostra, di tutti noi, di dire chiaramente alla Russia che l'invasione dell'Ucraina sarebbe un gesto dalle conseguenze assolutamente irreparabili e inaccettabili.